Ciao e benvenuti sul mio sito, io sono Matteo Babetto, laureato in scienze motorie specializzato in motori a posto funzionale. Oggi voglio rispondere a una domanda che veramente tante donne si fanno, ovvero come faccio ad avere un fisico tonico asciutto e anche modellato? Già, perché il problema è proprio questo, tante donne che iniziano ad allenarsi vedono che nel giro di qualche mese riescono a migliorare fisicamente, riescono anche a perdere qualche chilo e quindi essere più toniche in vari punti del corpo, ma al contempo vedono che non sono riuscite a centrare il fisico che volevano, non sono riuscite a dimagrire soprattutto nei punti critici, nelle zone critiche, addominali, glutei, fianchi, interna costa e questo perché accade? Beh, devi sapere che l'allenamento classico in palestra nasce essenzialmente per un pubblico maschile e come sebbene un pubblico maschile ha esigenze completamente diverse rispetto a una donna. In particolare anche l'assetto fisiologico e ormonale è diverso. Ecco perché questo tipo di allenamento non può darti esattamente i risultati che desideri. Certo, può andare a migliorare la composizione corporea, farti essere più tonica, ma se vuoi veramente un fisico bello, armonico, tonico, asciutto e modellato, quello che ti serve è l'allenamento funzionale. Allenamento funzionale che come ti dicevo ti dà armonicità nel tuo corpo, va a modellare soprattutto le zone critiche. In questi anni ho veramente speso tante energie a diffondere il corretto allenamento funzionale. Lo puoi vedere sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook, sul mio sito. Però ho voluto fare un qualcosa di ancora più specifico. ho voluto creare una programmazione specifica per donna di allenamento funzionale. Programmazione di 6 settimane che va benissimo per te se ti alleni almeno da 6 mesi. Quindi hai un minimo di esperienza nell'allenamento. Sei in pratica. 2, 6, 7, 8 kg di sovrappeso massimo e la programmazione va benissimo per te sia se ti piace allenarti in palestra ma anche a casa. Infatti gli esercizi sono completamente a corpo libero. L'unica cosa di cui avrai bisogno è una sbarra a media altezza che puoi anche prendere su Amazon. E che dire, se la guida reputi che hai il tuo interesse, prendila, fammi sapere come va. Io sono a tua disposizione. Ciao da Mattia!